Volle ieri, prima giornata di A1 femminile, primo successo per Roma che batte in casa per 3-1 le neopromosse friulane di Talma Sons. Combattutissimi i primi due set, 20-28-26 dalle ospite e 30-28 dalle padrone di casa. Poi Roma sale in cattedra grazie soprattutto alla grande prova di Gabriela Orsova, autrice di 27 punti in Superlega maschile Cisterna. Per dal tie-break sul parquet di Verona i pontini hanno tenuto testa. Fino alla fine vedete ora le immagini cedendo solo nel finale per 15-13. Grandi prove di Teofore e Cordy Ramon, 23 punti ciascuno, primo punto in classifica per Cisterna.